Fa che il tuo Spirito ci guidi alla verità tutta intera, perché possiamo dirci ed essere discepoli del tuo Figlio. Cari fratelli e sorelle, così abbiamo chiesto nell'orazione di colletta di questa celebrazione eucaristica, di dirci ed essere discepoli del Figlio. E il brano del Vangelo che poc'anzi è stato proclamato, penso, dica a noi cosa significa essere discepoli di Gesù. Gesù chiede ai suoi discepoli la gente chi dice che sia lui, ma poi chiede ai suoi discepoli voi chi dite che io sia. Una domanda capitale, importante per l'identità del discepolo, perché come ci ha ricordato Papa Benedetto XVI nella sua prima enciclica, la Deus Caritas Est, il cristianesimo non nasce da una morale, da un'etica, ma dall'incontro con la persona di Gesù. Quindi dire qual è l'identità di Gesù, comprendiamo bene che questo dice del nostro essere discepoli suoi. E Pietro risponde tu sei il Cristo. Ma Pietro non comprende a fondo l'affermazione che fa, perché lui pensa che il Cristo, il Messia di Dio, è colui che trionferà, ma Gesù immediatamente smonta quello che Pietro pensa e dice che il figlio dell'uomo, lui deve soffrire, morire e risorgere. Dice del suo mistero pasquale, quello che viverà a Gerusalemme. Ma Pietro non comprende questo e Gesù utilizza un'espressione molto forte nei confronti di Pietro. Satana va dietro a me perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. ecco, il cammino del discepolo di Gesù è essere dietro di lui e comprendere che l'identità di Gesù, il Cristo, passa attraverso il mistero della Pasqua. e noi come suoi discepoli siamo chiamati a vivere il mistero della Pasqua, di passione, morte e risurrezione. Allora chiediamo in questa celebrazione eucaristica, per intercessione di Francesco, che si è posto la domanda chi sei tu e chi sono io, chiediamo proprio di scoprire la vera identità della persona di Gesù e di essere e dirci suoi discepoli. Sera